Ok, stavamo lavorando su questo, cioè stavamo, stai lavorando su questo, io, hai visto come vengono, è brillante, è bello, comincia anche a funzionare, mi fa piacere, che dici? Sì, io sulle prime ero un po' perplesso su questo lavoro, perché l'ho fatto alla prima, però ho detto ma insomma non, perché? Cioè la prima l'hai fatta a impasto? Sulle prime, nei precedenti, ho detto ma forse sto procedendo male, non sono soddisfatto. No, vedi che bene, anche perché devo dire noi vogliamo subito ottenere il risultato velocemente, è quello che ci frega, che mi frega. E qui ho qui, se illumini un po' di più qui e qui, e qui c'è questo andamento, forse qualcosa qui, vedi, aspetta l'ho gonfiato troppo, setta. Qualcosa qui, vedi, qui, perché qui è giusto che sia scavato, e forse qualcosa qui, vedi, prendo, però siamo, gli occhi ancora non mi convincono, non ti convincono neanche a te, e guarda questa bocca quanto è stereotipata, cioè non è inserita, lo vedi che sembra incollata? È un po' sì. Non è nel, non è nel... Non è inserita con te. Eh, non è, vedi che già così. La sua luminosità non è... Cioè, è concentrata, e questo succede perché poi certi particolari ci catturano. Eh, beh, io, sì. Siccome ci catturano, ci concentrano, magari non ci riesce bene. Siccome non ti riesce bene, che fai? Ti metti a... A fare dettagli. Ti metti a fare dettagli. Che qui, però, sono dettagli. Aspetta un attimo, vediamo un po'. Eh, probabilmente, ecco, vedi? Cioè, sì. Eh, eh, vedi? Cioè, tu lo metti... Vedi che va dentro adesso? Mm-hmm. E invece dall'altra parte... Vabbè, adesso sto esagerando. Però... Prende più volume. Prende forma. Cioè, si inserisce. Questo l'hai tenuto bene, forse appena, 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 appena. Quest'occhio non funziona. Questo, però, è la cosa più difficile. Eh, la guarda? Sì. Cioè, l'eccolo qua, guarda. E quest'occhio qui, guarda. Guarda che ombra forte che c'ha. Sì, effettivamente è più... Poi, magari io ti mando l'immagine, forse è più contrastata. Ma va bene, comunque ci sta, perché lì c'è... C'è sicuramente molto più ombra di quella... Quella cavità, cioè, è vitale. Eh, lo vedi com'è... È il cavo, è il cielo. No, più che altro comunque la bocca. Parate, la bocca anche qui, sembra, è molto stereotipata. Però c'ha molti più catrasti. Eh, sì, quello è vero. E stereotipata anche nel formizio, nella fotografia. Anche nella foto, cioè, è molto truccata questa bocca. Però c'ha molti più contrasti, quindi esce fuori per quello. Cioè, tu c'hai a quel punto, c'hai... Troppo chiari quegli occhi, anche chiari, perché... La cavità orbitale, lì... Eh, quella è... Proietta l'ombra sull'opio. Eh, sì, la città va. È più furo, certo. Quì, ecco, c'è questo... E anche qui è molto più forte. Adesso è... Adesso sto scarabocchiando, eh, però, insomma, credo che... Comunque siamo... È bello. È un bel lavoro, ormai stiamo... Vado... Proseguo con questo... Con queste... Sì, sì. E vedi... Vedi tu se... E vedi che... Se vai a aggiustare certi punti di contrasto, te lo fai... Eh, però qui... Ecco, è... Anche qui è più scuro, eh. Eh, eh, eh. Sì. Sì. Grazie.